Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un saggio appena pubblicato dal mulino, dal titolo Venezia e la terra ferma, 1404-1797. Di Marco Pellegrini, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola per che ci parli di questo interessante volume. Prego, professore, a lei. Grazie. Dunque, innanzitutto ringrazio dell'invito. Mi fa estremamente piacere poter dialogare in questa forma virtuale con il pubblico così appunto numeroso e interessato di questa associazione. Dunque, mi fa piacere poter raccontare qualcosa di questo volumetto che è stato appena pubblicato appunto dalla casa editrice Il Mulino, perché è il, diciamo così, l'avvio, è il punto di avvio di una collana che ho ideato e che quindi dirigo, dedicata alla storia degli antichi stati italiani. E questo è un argomento estremamente interessante da riprendere adesso, diciamo, nella nostra situazione attuale. La storia degli antichi stati italiani è una disciplina accademica che ha avuto parecchia fortuna fino a pochi decenni fa e poi pian piano è stata in qualche modo oscurata. In molti casi all'università le cattedre sono state soppresse, non a Milano fortunatamente e non in alcune sedi importanti universitarie, ma qua e là, nell'ambito della politica di sfoltimento degli insegnamenti, di riduzione, di accorpamento, questa disciplina, cioè la storia degli antichi stati italiani è stata in molti casi sacrificata. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che gli storici continuano, sul piano della ricerca, a occuparsi di storia degli antichi stati italiani e producono anche risultati di alto profilo scientifico, per cui è più che mai opportuno adesso riprendere in mano le cognizioni che si sono sempre accresciute nel corso degli ultimi anni, nonostante appunto una parziale sfortuna dal punto di vista della disciplina che ha pagato il prezzo appunto di una semplificazione, di una riduzione del numero degli insegnamenti all'università, quindi malgrado questa apparente, come dire, diminuzione o recessione della presenza di questa disciplina, si tratta comunque di un campo di studi estremamente fecondo che continua a registrare contributi di rilievo, contributi parziali e che si pone anche come un argomento sollecitante da conoscere, gli antichi stati, ossia gli stati preunitari, quegli stati che hanno fatto l'esperienza dell'Italia prima dell'unità nazionale. Quindi la collana prevede, appunto ha messo già in calendario volumetti dedicati a tutti i principali stati preunitari, apriamo in questo caso con lo stato veneziano di terraferma. È un'esperienza estremamente suggestiva, cercherò di compendiarlo in poche parole. Venezia in un torno di tempo molto breve, perché esiste un anno preciso di nascita dello stato di terraferma che è il 1404, in un torno di tempo molto breve mette insieme un dominio che comprende le più importanti città e province dell'area compresa fra gli attuali Friuli, Veneto e Lombardia orientale. Il 1404 è la dedizione di Vicenza, seguono l'anno successivo Padova e poi Verona e poi via via si arriverà fino alle frontiere dell'Adda che sono stabilizzate fra il 1426 e il 1428 con un'ultima preziosa giunta che è Crema nel 1449. Questo stato durerà fino all'anno 1797 con l'arrivo dell'armata napoleonica nel nord Italia. Durante questi secoli della sua esistenza lo stato veneziano di terraferma, plasma e riconfigura l'identità locale di tutte le province soggette, di tutte le città soggette e noi ne abbiamo la dimostrazione anche visibile e palpabile in qualche modo nel panorama urbano delle città soggette a Venezia che dal punto di vista urbanistico sono state tutte riconfigurate durante l'età veneziana e sono tutte estremamente belle. Quindi l'esperienza veneziana ci ha dato un lascito importantissimo innanzitutto sul piano monumentale. L'orma di Venezia è stata un'orma esteticamente positiva. Dunque le città della Valpadana, specialmente della Valpadana orientale, hanno tutte o quasi un'origine romana, sono pochissime quelle che non hanno un'origine romana, hanno uno sviluppo medievale, questo veramente tutte, e quindi attualmente presentano un bellissimo centro storico che normalmente è stato, come dire, messo insieme in età medievale, ma le città che hanno conosciuto la dominazione veneziana hanno poi avuto una riscrittura, una riconfigurazione tale per cui il centro storico è sempre un centro di vita civile, di vita municipale. I palazzi pubblici sono stati spesso ricostruiti o quantomeno ammodernati, ricordiamo appunto è il comune che dà origine al palazzo pubblico, ma appunto in età veneziana molto spesso questo palazzo viene quantomeno adornato, se non addirittura ricostruito o comunque ammodernato, e poi si aggiungono via via altri preziosi complementi che ci comunicano l'idea di una vita civile molto sviluppata. Si tratta di un municipio quindi che ha una sua autonomia e che si autoamministra e che celebra anche i luoghi del proprio potere della propria autoamministrazione. Quindi Venezia è un'autorità sovrana estremamente rispettosa, si pone come complemento a una vita civile della città, del centro soggetto, che ha comunque una propria dimensione di autogestione, di autoamministrazione. Di conseguenza lo sviluppo delle società locali sarà particolarmente sensibile. Infatti globalmente l'età veneziana, almeno nella sua prima parte, è un'età di fioritura, è un'età di prosperità. Dal centro l'esercizio del dominio è pensato, quindi da parte dei veneziani, con, diciamo, nei termini di un progetto di prosperità condivisa. Infatti è stato usato opportunamente, a proposito del dominio veneziano, il concetto anglosassone ed espresso dalla parola inglese Commonwealth. Quindi più che un dominio sarebbe un Commonwealth, una messa in comune di una serie di risorse, in vista di un progresso comune e appunto di una prosperità, anzitutto economica, condivisa. La città dominante traina, ma la periferia segue. E il concorso generale di queste forze produce quella che in termini aristotelici, allora usati, si dice felicità, la felicità dei popoli, che è lo sviluppo non solo economico, ma anche morale, anche civile, della vita appunto, la vita urbana innanzitutto, ma la vita anche dei centri, dei centri minori. Ora per chiudere appunto questa breve presentazione vorrei appunto far notare che questa or dell'esperienza veneziana, che dura più di tre secoli, quasi quattro, plasma notevolmente la mentalità, le abitudini, le tradizioni, le istituzioni delle società locali. Ci sarà poi un momento di declino che è molto interessante anche da ripercorrere, per cui ovviamente l'esperienza del dominio veneziano non è solamente luce, ci sono anche molte ombre, non è solamente splendore, c'è anzi un momento di declino, ma globalmente si tratta di un'esperienza molto produttiva che noi possiamo rintracciare in una quantità di aspetti. è affascinante, anche se per quanto ci riguarda lo sviluppo dello Stato di Venezia viene a partire appunto dall'inizio del Quattrocento e poi si sviluppa fino a tutto il Settecento, quindi esce un po' dal nostro periodo, ma è comunque qualcosa di particolare, davvero interessante per comprendere anche certe realtà odierne e quotidiane che fanno di quel territorio, soprattutto nell'area più orientale, qualcosa di abbastanza unico per il nostro paese. Mi interessava capire cosa succede nel 1404, cioè attraverso quali forme si sviluppa lo Stato di Venezia? La formazione dello Stato da terra veneziano avviene a seguito di un evento tanto inopinato quanto traumatico, quale è la morte del Duca di Milano Gian Galeazzo Visconti. Più che mai sono gli accidenti della storia a formare poi i grandi processi, lo sappiamo bene anche ai nostri tempi, non esiste nulla di predeterminato e nemmeno di prevedibile, perché il dato accidentale nella storia va sempre tenuto presente. Così noi non possiamo sapere come sarebbe andata la storia d'Italia e in particolare la storia del nord Italia. Se Gian Galeazzo Visconti non si fosse ammalato di peste, in un momento fra l'altro anche critico della sua parabola, questo signore vittorioso che aveva riconfigurato il dominio visconteo estendendolo a praticamente quasi tutta la Valpadana e innalzandolo di rango a livello di Ducato con l'idea di farlo diventare una monarchia, quindi una vera e propria monarchia diciamo del nord Italia, se questo progetto fosse riuscito e c'erano tutti i presupposti perché riuscisse, sicuramente non sarebbe mai nato lo stato veneziano di terraferma. Avremmo avuto piuttosto un'area orientale di questo grande Ducato di Milano formato dalle ex signorie degli scaligeri di Verona e dei carraresi di Padova che erano già state di fatto assorbite, soprattutto quella scaligera di Verona, nel corpo dello stato di Gian Galeazzo. Certo Gian Galeazzo, come è stato sottolineato molte volte, fece tutto molto in fretta e forse troppo in fretta. Ad esempio l'ammissione di Padova, quindi di quella che era l'eredità dei carraresi, uno stato fortissimo all'epoca, fu compiuta in maniera assolutamente parziale, insoddisfacente e soprattutto non duratura, cioè già l'appendice padovana alla fine non fu assicurata allo stato di Gian Galeazzo in maniera stabile e durevole. Quindi c'erano dei problemi già vivente Gian Galeazzo alle frontiere orientali. Tuttavia sarebbe stato evidente che da Milano sarebbe stato possibile coordinare il destino dell'intera Valle Padana. Questo è quello che senz'altro possiamo dire. Ma si vide che tutto questo era opera della genialità e della spregiudicatezza di un singolo reggitore, un personaggio di caratura straordinaria come era Gian Galeazzo Visconti, ma tuttavia non esisteva in qualche modo ancora e non aveva avuto tempo in qualche modo di consolidarsi questo grande progetto, innanzitutto nella fondazione di un'autentica dinastia ducale che regnasse indisputata, che avesse regole di successione valide, in qualche modo riconosciute e definitive. Milano stessa come società non aveva in qualche modo ancora metabolizzato l'idea di diventare la capitale di un ducato. La società politica milanese aveva dentro di sé fortissime resistenze all'ipotesi di transizione a una monarchia e a una monarchia viscontea, infatti si vide, si vide anche dallo scoppio di ripetute congiure, le congiure sono la risposta in qualche modo di rifiuto che dall'interno della società milanese proviene al progetto dei Visconti e segnatamente di Gian Galeazzo. Quindi sottolineiamo innanzitutto la fragilità e la provvisorietà dell'esperimento di Gian Galeazzo già vivente lui. Ma quando poi Gian Galeazzo stesso muore prematuramente tutto questo crolla, crolla come un castello di carte. Il grande stato Visconteo si sbriciola, pezzi erratici vengono arraffati da questo o quel generale, ci sono i capitani di Gian Galeazzo che funzionano molto bene come comandanti di esercito quando c'è un sovrano sopra di loro che li sa orientare, li sa comandare. Ma quando sono lasciati a loro stessi si rivelano sostanzialmente dei predoni, sono dei veri di fatto avventurieri e sono lanciati alla conquista ciascuno di un proprio dominio e questa appunto è la triste storia della dissoluzione dello stato Visconteo. 1402. Se, ripeto, non ci fosse stata la morte inopinata di Gian Galeazzo e la subitania dissoluzione del suo stato, Venezia non sarebbe mai diventata sovrana territoriale di un dominio padano. È ben vero che all'epoca possedevasi una signoria, un avamposto nel Veneto che era la città di Treviso. Sottolineiamo, peraltro, questo è un dato strutturale, che Treviso e il Trevisiano sono il bacino di rifornimento delle vettovaglie per la città di Venezia. Quindi vettovaglie, vino, si produceva già allora l'ottimo vino trevisiano che veniva bevuto in gran parte sulla laguna, e il legname, e non solo, ma perfino l'acqua potabile, perché ricordiamoci che Venezia ha un problema di approvvigionamento idrico strutturale, per cui in realtà le cisterne veneziane spesso sono rifornite di acqua dolce dall'entroterra trevisiano. I mulini trevisiani macinano la farina e cuociono, addirittura i fornai di Treviso cuociono il pane, perché arrivano le pagnotte già fatte a Venezia prodotti a Treviso. Questo lo voglio sottolineare per capire lo speciale rapporto che sussiste attraverso i secoli fra Venezia e Treviso e giustifica il fatto che già nel 1339 Treviso è acquisita come signoria da Venezia. Ma a parte questo indispensabile serbatoio di rifornimento annonario, non c'erano particolari ragioni che facessero pensare che Venezia fosse interessata ad acquisire le città dell'entroterra. Al contrario, esisteva una tradizione plurisecolare che raccomandava ai Veneziani di astenersi dalle conquiste territoriali in Val Padana, ben sapendo che ginepraio era la Valle Padana, quella orientale in modo particolare, ma anche tutto il resto, lo sappiamo bene e l'abbiamo appena menzionato anche a proposito dei visconti. Cioè chiunque andava a toccare la Val Padana era come se andasse a toccare un cavo dell'alta tensione, rischiava fortemente di restare fulminato, perché era tale il particolarismo bellicoso di tutti questi territori che apparentemente sembravano facili da conquistare in quanto pervasi da discordie insanabili. Ma proprio questa apparente facilità dovuta in realtà a discordia si rivelava di fatto un terreno paragonabile a sabbie mobili, che avrebbe inghiottito gli incauti come successe più di una volta. Quindi la Padania orientale doveva servire a Venezia da bacino di rifornimento e anche da mercato di sbocco, dei generi che Venezia importava anche da mercati lontani. Ma guai ai veneziani se avessero osato nutrire l'ambizione di insignorirsi direttamente di questi territori. Questo era il monito che circolava da sempre a Venezia e alimentava un partito in seno al maggior consiglio che possiamo definire il partito della pace. Possiamo anche definirlo, e questo è un aspetto peculiare della vita pubblica veneziana, come il partito dei vecchi. Questo è un aspetto importante appunto. A Venezia esisteva una specie di dicotomia strutturale fra vecchi e giovani che non rispecchiava affatto una diversità anagrafica, perché esistevano giovani di età che ragionavano come vecchi e quindi erano ascritti al partito dei vecchi e viceversa. Esistevano personaggi anche anzianotti che tuttavia erano ascritti al partito dei giovani in quanto intemperanti, audaci, bellicosi, portati a scommettere. Questo è essere giovani a Venezia, diciamo essere propensi alla scommessa azzardata. Ricordiamo che Venezia era una gerontocrazia, cioè il ceto dirigente veneziano era notoriamente costituito da personaggi piuttosto attempati. Questo in parte corrispondeva anche a una organizzazione della vita che era tipica del nobile veneziano nel Medioevo e anche oltre. Cioè il nobile veneziano si dedicava per tutta la sua giovinezza fino alla maturità a una vita di viaggi e di commerci su lunga distanza piena di pericoli. Poi una volta consolidata la propria fortuna e quindi esaurito la prima fase della vita, il primo stadio della vita, si in qualche modo ritirava nella capitale e si dedicava alla vita pubblica e puntava tra l'altro anche a occupare cariche prestigiose. Ecco perché in effetti c'era questa idea che il ceto dirigente veneziano fosse composto da questi autorevoli vegliardi che tra l'altro erano portatori tradizionalmente di una politica di prudenza, cioè una politica di coltivazione di rapporti amichevoli e pacifici con i vicini, avendo visto che conveniva molto di più godere di buoni rapporti perché questo consentiva di mantenere aperti i mercati, di mantenere aperti i flussi commerciali da cui Venezia aveva tutto da guadagnare perché smerciava gran parte dei prodotti che importava anche da lontano nelle piazze della Val Padana, il corridoio importantissimo poi che era quello diciamo del Brennero che portava verso il nord Europa doveva essere tenuto aperto, significava avere buoni rapporti con Verona tanto per dire e quindi era meglio, era meglio appunto coltivare buoni rapporti e astenersi e astenersi da complicazioni. Ma esiste un momento in cui i veneziani vedono contraddetto questo assunto ed è la guerra di Chioggia. La guerra di Chioggia, siamo a fine 300, finisce con la pace di Torino nel 1381. In quel caso si è visto che sobillati da Genova, la arcinemica sui mari e ricordiamo che durante la guerra di Chioggia Genova arriva a porre la serrata, addirittura gli accessi alla laguna di Venezia dalla parte del mare. In quella circostanza sobillata dalla diplomazia genovese e dalla rete di aderenze internazionali di Genova, anche gli infili potentati veneti e potentati della Val Padana sono pronti a coalizzarsi contro Venezia e Venezia rischia l'accerchiamento. Allora questo è il punto, i veneziani capiscono che sarebbe importante consolidare meglio degli avamposti in terraferma e questo è un primo punto. Lì per lì non c'è nessuna conseguenza diretta, c'è solo una presa d'atto. Nei decenni successivi, nel ventennio successivo, ha luogo la grande esperienza di espansione del dominio milanese di Giangaleazzo Visconti, con il quale Giangaleazzo, Venezia, intrattiene rapporti formalmente positivi. Quindi Venezia lascia fare, anche perché non potrebbe certo opporsi a Giangaleazzo nella sua politica di conquiste, ben contenta di vedere travolti i della Scala di Verona e soprattutto i da Carrara di Padova. I carraresi sono la bestia nera di Venezia, perché in effetti si sono dimostrati suddoli e infidi in occasione appunto delle guerre contro Genova. Se il progetto di Giangaleazzo avesse avuto modo di dispiegarsi fino in fondo, Milano avrebbe avuto il controllo dell'intera Valpadana, Padova compresa, Venezia avrebbe avuto un ruolo puramente complementare di grande sbocco portuale di una grande potenza milanese, che ricordiamo però giocava soprattutto, almeno fino a quel momento, giocava i suoi destini soprattutto sull'asse con Genova. Quindi esisteva un asse in realtà molto instabile milanese-genovese. Sarebbe stato problematico includere anche Venezia e fare una specie di triangolo Genova-Milano-Venezia. Non è possibile immaginare cosa sarebbe saltato fuori da questo schema, perché questo schema non entrò mai in funzione. Però una cosa è certa, se la Milano di Giangaleazzo-Visconti fosse stata la padrona assoluta della Valpadana, Venezia sarebbe stata relegata a un ruolo pur importante di potenza puramente marittima, puramente marinara, puramente commerciale, sarebbe stata pur sempre sovrana di quello che era lo Stado da Mar, quindi la cintura di possedimenti fra il mare Adriatico, il mare Ionio, il mare Egeo, che aveva la sua massima punta nell'isola di Creta, che era una specie di viceregno per i veneziani, quindi lo Stado da Mar, che ricordiamo era molto più antico dello Stado da Terra, perché lo Stado da Mar si costituisce nei primissimi anni dell'anno 1000, quando i veneziani sottomettono definitivamente Zara e poi da lì intraprendono l'accordamento a questa cintura di scali e di possedimenti che governano direttamente, pian piano accorpano alcuni capisaldi nel mare Adriatico e poi soprattutto è con la partecipazione alla quarta crociata, quindi nel 1204 e anni successivi, che Venezia si impossessa di scali importantissimi in Grecia e nel mare Egeo e della stessa isola di Creta. Questo permette a Venezia di compiere un vero e proprio salto qualitativo. Quindi tutto questo verosimilmente sarebbe rimasto, Venezia avrebbe avuto la disponibilità dello Stado da Mar, ma certamente non avrebbe mai messo insieme lo Stado da Terra. Come poi Giangaleazzo avrebbe trattato Venezia, anche questo è una materia di pura speculazione, può essere un esercizio accademico, forse non inutile, ma lo releghiamo appunto nell'ambito della fantastoria. Diciamo che certamente comunque Venezia avrebbe visto compressa la sua sfera di sovranità, perché ovviamente una Milano strapotente superpotenza dell'intera Valpadana avrebbe relegato Venezia alla subalternità, non mai probabilmente al dominio diretto, perché era un'ipotesi impossibile dati i presupposti all'epoca, ma certamente una potenza, un appendice subalterna alla potenza milanese. E invece tutto questo non successe. Giangaleazzo morì prematuramente, in modo inatteso, il suo Stato si dissolse, sarebbe stato messo faticosamente insieme nuovamente pezzo a pezzo dal figlio Filippo Maria, ma solo nell'arco del ventennio successivo, nel frattempo Venezia si buttò in maniera convinta nell'avventura della Costituzione dello Stato territoriale. E tuttavia, aggiungo solo questo dettaglio prima di concludere questa risposta, tuttavia anche in questo caso Venezia fu provocata, fu incitata a darsi da fare, quindi a lanciarsi nella conquista di una fascia territoriale padana, e quindi in particolare proprio Padova. Perché? Perché alla morte di Giangaleazzo Visconti, il primo soggetto dell'area veneta che si mosse con l'intenzione di diventare il nuovo dominatore di tutta quest'area padana orientale. Approfittando dell'eclissi della Milano-Viscontea, il primo soggetto a lanciarsi fu il signore di Padova, Francesco Novello da Carrara. E lui, fu lui che in qualche modo sobillò, provocò, incitò Venezia a replicare con le maniere forti e quindi opponendo a un tentativo estremamente ambizioso e anche violento, tuttavia, una dose almeno pari di ambizione e di violenza. Fu il Carrarese. Quindi il Carrarese che aveva pensato di trovare la sua ora, che fosse arrivato il suo momento con la morte dell'odiato Giangaleazzo Visconti e quindi immediatamente si adoperò a ricostituire una potenza veneta che fosse erede contemporaneamente della grande esperienza veronese degli scaligeri che nel frattempo era stata messa fuori gioco. Quindi non più Verona, ma Padova come capitale di un forte stato comprendente la padania orientale. Quindi la disputa in un primo tempo, che sembrava che in un primo tempo fosse andata a vantaggio di Verona, ma adesso con la riapertura fortuita, sembrava invece volgere a favore di Padova e invece né Verona né Padova, bensì Venezia. Perché Venezia trionfò e trionfò a man bassa? Perché aveva a disposizione una fortuna finanziaria colossale, quindi aveva un surplus derivante da un periodo straordinario di grande espansione commerciale, del commercio appunto a lunga distanza, che consentì a Venezia di iniettare denaro fresco, capitali a valanga nel mercato appunto della guerra, il che significava assoldare i migliori condottieri del momento, dotarli appunto delle risorse finanziarie sufficienti per intraprendere una vera campagna di conquista. Allora il Carrarese si rese conto, a suo danno e troppo tardi, che le risorse che la sua Padova aveva da buttare sul piatto erano infinitamente minori rispetto alle risorse gigantesche finanziarie di una Venezia che stornò una parte dei suoi capitali nell'investimento in guerra e fu un investimento fortunatissimo. Nel giro di pochissimi anni, grazie a una serie di manovre militari e diplomatiche, una dopo l'altra, le grandi città ma anche le piccole città e i centri minori del Veneto si diedero tutte in soggezione a Venezia. Un bel quadro, un bel quadro di un nord Italia tranquillo, terapico, però effettivamente era una delle tante domande per cui queste città marinare avevano sempre avuto un po' di reticenza a muoversi sulla terraferma. Questo è successo per esempio a Pisa, che non si è mai sviluppata sulla terraferma ed è successo a Venezia fino al periodo in cui, suo malgrado forse o in modo di tutto casuale, si è dovuta buttare verso l'interno con però risultati notevoli, davvero entusiasmanti. E da qui poi un lungo periodo, fatto di alti e bassi ovviamente, ma comunque che ha dato omogeneità a tutto quel territorio, un'omogeneità che era anche culturale, architettonica, di vita civile, di regole, che in parte si ritrova ancora oggi. Sì, il fatto che Venezia, a differenza delle altre repubbliche marinarie, si sia lanciata in questa maniera così, diciamo pure tumultuosa, nell'avventura della conquista in terraferma, dimostra anche il carattere polivalente, se vogliamo, delle competenze che la nobiltà veneziana aveva come ceto di governo. Altre aristocrazie, a partire da quella genovese, dimostrarono molta minore sapienza civile, nel senso che non era scontato che dei mercanti, che avevano anche appunto una connotazione aristocratica, dimostrassero le qualità necessarie per reggere dei popoli soggetti che erano sempre e comunque problematici, perché era sostanzialmente da mettere nel conto all'epoca il fatto, il dato insopprimibile dell'instabilità del potere. Non esistono strutture solide di governo. Tutti questi stati territoriali sono delle sperimentazioni. Alcune riescono meglio di altre e danno origine poi a stati territoriali o stati regionali che hanno poi una lunga vita. Altri invece hanno una vita molto più breve, il che è dovuto tra l'altro anche all'incapacità di una certa aristocrazia, in quanto ceto capace di produrre, di sfornare reggitori di province. Ora, la nobiltà veneziana si dimostrò capace di produrre in effetti un ceto tutto sommato competente di amministratori anche delle province soggette, innanzitutto perché aveva alle spalle, nel momento in cui nacque lo Stato da terra, aveva alle spalle circa quattro secoli di esistenza dello Stato da Mar. Cioè i veneziani erano comunque già abituati a reggere popoli, che fra l'altro erano popoli prevalentemente non italici, erano levantini, erano greci ad esempio, o dalmati. Comunque diciamo popoli di diversa cultura erano abituati sempre i veneziani a negoziare con sovrani, con controparti, con colleghi anche mercanti in tutte le piazze del Mediterraneo e fuori, il che significava una certa duttilità negoziale che divenne uno stile di governo che noi poi ritroviamo anche nel modo di reggere i popoli della terraferma. Infatti, quando guardiamo al modo in cui lo Stato da terra fu messo insieme, notiamo che ci furono alcune azioni militari condotte molto brillantemente dai migliori capitani di ventura del tempo, ma più spesso che no la dedizione poi delle città e delle province fu procurata attraverso accordi. Cioè rarissimamente ci furono conquiste violente, anzi quasi mai. Furono piuttosto cedimenti del fronte avversario, passaggi da una fedeltà all'altra. Venezia seppe proporsi come interlocutore credibile e come autorità sovrana preferibile. Meglio stare sotto Venezia. Perché? Perché Venezia garantisce una maggiore tranquillità, è più forte, ed è anche, o almeno tende a presentarsi così, un po' più rispettosa e un po' meno esosa rispetto ai precedenti signori. È una politica di immagine, se vogliamo, però bisogna essere anche, come dire, bisogna riconoscere, bisogna essere lucidi. Non è solo immagine, ci sono anche dati di sostanza, cioè Venezia tende effettivamente ad attenersi a questo criterio. Il che non impedisce che in caso di necessità sappia anche usare la forza, la forza repressiva, e la usi anche in maniera piuttosto drastica, così come un dato importantissimo all'epoca era mostrarsi assolutamente inflessibili, inconcussi e quindi in questo modo davvero sovrani nell'amministrazione della giustizia, che era un dato veramente nevralgico. Quindi Venezia, almeno dal punto di vista della rappresentazione, tende a proporsi così, mite moderata con i sudditi a cui chiede fedeltà e dai quali ottiene meritatamente fedeltà, ma inflessibile, rigorosissima, durissima contro tutti quelli che infrangendo l'ordine e la giustizia si mettono contro Venezia come autorità sovrana. Diciamo che nel momento di costituzione dello Stato è questo il messaggio che si tende a inviare e devo dire che questa politica è sicuramente efficace e ha anche una certa rispondenza con lo stile di governo che poi concretamente dimostrano i rettori veneziani, cioè quei rappresentanti che dalla dominante vengono inviati nella periferia per amministrare le province e le città soggette. Ricordiamo che l'autorità di Venezia si esplica con la presenza di un gruppo piuttosto ridotto di rappresentanti della dominante, il che significa che le città e le province continuano ad autoamministrarsi, semplicemente al di sopra degli organismi di autoamministrazione locale ci sono pochissimi rappresentanti della dominante, sono tutti nobili perché l'estrazione nobiliare è un dato in qualche modo obbligatorio e inerudibile e sono sostanzialmente il podestà e non sempre il capitano, questi due vengono detti i rettori. Non tutti i centri hanno due rettori, ci sono anche centri di minore importanza a cui basta un rettore solo e allora sarà il capitano. Poi ci possono essere i castellani delle rocche e delle fortezze e poi a titolo straordinario ma che in alcuni casi diventa anche semipermanente c'è un'altra figura importante che è il provveditore che è una sorta di commissario, ovviamente ha mansioni anzitutto di gestione della guerra e delle necessità connesse alla guerra, però anche in questo caso poi il provveditore che è una figura veramente chiave può diventare anche il governatore in toto o in parte anche di province che hanno una situazione che lo richiede. Però ecco, pensiamo che l'organico, lo staff dei governatori inviati da Venezia si riduce veramente a molto poco, il podestà con la sua corte, quindi un piccolo nucleo anche di giudici collaterali, di scrivani, di cancellieri e quant'altro, il capitano che è il coordinatore della parte militare e fiscale del governo e poi appunto qualche castellano qua e là e qualche provveditore quando necessario, ma non molto più di questo. Quindi, come vediamo, si tratta di uno staff abbastanza esiguo in realtà e che presuppone che poi gli organismi di autogoverno, municipale, territoriale, eccetera, abbiano poi un grosso spazio nella vita quotidiana degli abitanti dello Stato da terra. Eh, anche questo è un insegnamento utile da tanti punti di vista. Io però direi che a questo punto ci conviene ricordare il titolo del libro in modo tale che possano correre ad acquistarlo in libreria e così avere un quadro completo di questa avventura veneziana. Il titolo è Venezia e la terraferma, 1404-1797, appena pubblicato dal Mulino, fra l'altro ha un prezzo assolutamente vantaggioso perché costa solo 15 euro e l'autore è Marco Pellegrini che noi abbiamo avuto il grande piacere di avere il nostro gradito ospite. Io ne approfitto anche per ricordare a tutti voi che ci state seguendo di seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org ringrazio ancora tantissimo il professor Pellegrini per aver accettato il nostro invito e vi do appuntamento alla prossima videopresentazione. Grazie ancora, professore. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. Spero di rivedervi non solo da distanza, ma anche in presenza. Anche a noi. Vorrei incontrare poi tutti voi magari a Milano in una qualche circostanza ben presto. Volentieri, grazie ancora. Grazie. Grazie a voi.